Guys, see my wife what she prepared for me this morning. Come vedete una moglie come Debbie cosa sa fare. Una colazione cioè ideale, praticamente con la nutella e il pane egg. Perfetto. Wow, this is very nice. Quindi anche voi vorreste trovare una moglie così il segreto. Non smettere di crederci che la troverete. Una moglie fantastica come l'ho trovata io. Ciao ciao. Questa è la cosa che vi fa apprezzare di essere sposati, capito? E' la cosa che vi fa apprezzare quando ti marriamo a qualcuno. Questo fa a te apprezzare e piacere quando ti marriamo. Perché a volte quando ti marriamo, ti senti un po' abbastanza o irritato. Quindi questo è il segreto. Cucere qualcosa special. Ok ciao ciao. Ciao. Have a nice day.